Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Mionauta, terzo episodio, siamo quindi al capitolo 2 della campagna con gli umani che si chiama Black Rock and Roll, 20 minuti più tardi al campamento di Uther vicino al villaggio del clan Black Rock. Maledizione, non si arrendono mai! Allora andiamo a distruggere queste bestie! Ricorda, Arcas, siamo paladini. La sete di vendetta non deve influenzare le nostre azioni. Se permettessimo alle passioni di trasformarsi in brama di sangue, diverremmo vivi quanto gli orchi. Va bene, Uther. Se te la senti, vorrei che fossi tu a comandare l'attacco. Io? Beh, certo. Io resterò qui e controllerò che nessuna di quelle bestie disgustose minacci il villaggio. Non ti deluderò. Ne sono certo, amico mio. Ok, quindi vediamo un po'. In questa missione dobbiamo stabilire una base, costruire una caserma, costruisci due fattorie, a destra sei fanti. Allora, quindi per costruire una base... No, sto usando invece delle frecce Wazda, ma non funziona. Per costruire una base, vediamo un po'. Ho 5 su 12, quindi un altro bracciante lo potrei creare. Suggerimento. Quando gli eroi come Arthas muoiono, i loro spiriti rimangono e possono essere reincarnati presso un altare. Pronto a lavorare. Questa l'avevo proprio dimenticata. Pronto a lavorare. Va bene. Volevo cominciare con queste cazzate. Allora, costruiamo una caserma. Non so se sia l'ordine giusto, però il gioco dice costruire una caserma per primo. Eh, noi facciamo una caserma. Poi un qui in mezzo, non so manco se è un posto giusto. Quindi questo è Silverhand. Che uter. Non lo posso spostare. Bene. Non c'è pericolo. Lui lo posso spostare. Non ho altre unità, a quanto pare. Ho solo braccianti agricole qua. Dai, amico. Dai, è una mossa. Tu, 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 tu. Come mi piacerebbe in questo gioco se ci fosse un tasto per velocizzare? Che fa? Vai in giro così? Tu, tu, tu. Alberi come siamo messi? Nessuno di stati, vieni qua. Va bene. La luce è la mia forza. Che cavolo di giro ha fatto? Operazione completata. Diceva che questo poteva anche danneggiare i nemici? Ah, un nemico non morto. Ok. Ok, lui ha completato. Io che cosa devo fare più? Due fattorie. Questo immagino che... I nostri uomini sono sotto attacco. I nostri uomini sono sotto attacco. Le mettiamo qua. Lo so che i nostri uomini sono sotto attacco. Però se due roli non ammazzano tre orchi, stiamo inguaiati. Ah, l'altare poi è questo. Pini. Vieni, bene, bene. Posso accelerare la costruzione, mi dicono? Se ci metto più gente. In un episodio ci ho provato, nel tutorial però. Quindi non lo so se magari lì era disabilitato. Fammi vedere. Ci prova, eh. Tasto destro. Sì, hai ragione. Quindi nel tutorial con gli orchi era disabilitato. O forse gli orchi non lo possono fare? Operazione completata. Per qualche motivo a me è ignoto. Costruisci. Altra fattoria. D'accordo. Veloce. Cosa? Questa dovremmo ripararla. La luce è la mia forza. Ah, solo mi torri di guardia. Così magari... Altro lavoro. Alla riparare. Fado subito. Ci lavoriamo per nulla. Dopo le fattorie, sei fanti. Devo addestrare sei fanti. In verità lo potevo già fare. Uno, due, tre. Non serve più oro. Qua ha completato? Sì, mio signore. Vai a prendere l'oro, va. Cosa c'è? Sì, mio signore. Ok, legna al momento forse non ne serve più. Serve più oro. Serve più oro. No, vabbè, lasciamo perdere. Serve pronto all'azione. Arrivando da su. Amico, tu che fai? È l'ora del giudizio. Cosa? Tu vai a prendere l'oro e vai a combattere. Vieni via. Mi metto in cammino. Sì, mio signore. Non c'è bisogno che ti rinnovi. Certamente. Potenzimento completato. Ordini. Ok, vediamo se riesco a prendere altro. Serve più oro. La miniera era sì e non è infinita. Ok. Quindi quanti ne ho creati? Di quanti? Solo due? Possibile? Mi è morto qualcuno? Pronto all'azione. Mi metto in cammino. Quattro. Cavolo, passano 160. Sì, sì, lo so che devo costruire la segheria vicino agli alberi. Però in questo momento ho proprio finito di prendere alberi. Le ho mandato tutti qua. Pronto all'azione. Quindi un altro peone. Questi consumano due? Serve più oro. Serve più oro. Un altro bracciante. Sì, mio signore. Pronto a lavorare. No. Dov'è? Molto bene. Sì, mio signore. Vai a prendere l'oro. Io combatto per la luce. Vai. Combatti per la luce. Ma c'era pure quella cosa che se io prendo un gruppo e clicco su uno, poi seguono lui? Sì, funziona ancora così. Mi ricordavo sta cosa. Questa è comoda per le unità ranged che mettete a scorta e quindi restano sempre dietro. Ok, ce l'abbiamo fatta. In verità, comunque potrei costruire i miglioramenti, così magari sono più forti le nostre truppe. Restamento. Veloce, 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 veloce. Qui è finita. Quindi abbiamo finito gli obiettivi di questa parte. Stabilisci la base. Fatto. Municipio c'è già, immagino, caserma, segheria, l'altare del re. Quindi mancherebbe solo una segheria. La mettiamo qua. Ah. Intermezzo. Folle di un paladino. I stregoni del clan Blackrock hanno pronunciato il loro incantesimo. Presto i demoni pioveranno dal cielo e questo maledetto mondo brucerà. Ho già sentito questi discorsi. Voi orchi non imparate mai. Era solo un'immagine riflessa. Che cosa hanno in mente questi vigliacchi? L'ora del giudizio si avvicina. Speriamo che questi miseri sacrifici soddisfino i nostri padroni demoniaci. Bastardi. Non ve la caverete. Uccidete gli orchi. Uccideteli tutti. Dove era quello che ho creato? Eccolo qua. No. Non l'altare del re. La segheria. Però lì vicino agli alberi lì. Ah ma c'è già. Ce l'ho già. Ah c'è già pure uno che ci lavora. Maledetto me. I miglioramenti non mi li fa fare però. Vabbè allora vai a prendere oro pure te. A questo punto. Abbiamo più gente. Dov'è che dobbiamo andare? Missioni. Uccidi il maestro d'arme. La luce è la mia forza. Tizio lì non ci segue. Io combatto per la luce. Con shift si seguono i gruppi. Sì mio signore. Pronto all'azione. Cosa ti serve? No doppio clicco. Ordini. Tutti. Sì mio signore. Non c'è bisogno che ti inginocchi. Sei incorreggibile. Ben trovato umano. Vuoi unirti alla nostra caccia? Ah gli gnomi. Cosa cacciate in questa regione voi nani? Draghi neri. Sembra che il loro sangue possa infondere potenti incantesimi alle nostre armi. Se incontrerai i miei compagni sono certo che divideranno con te questi incantesimi. I potenti incantesimi che cercate potrebbero tornarmi utili. Stiamo cacciando una bestia di nome Sirinox. Grazie al tuo aiuto il mostro non avrà scampo. Va bene. Questa mo' che cos'è? Come si chiama? Fucina. Ok quindi. Metto a migliorare tutto. Missione facoltativa. Sirinox. Uccidi Sirinox il dragone nero. Porto il cuore di Sirinox a Ferenor Stelty. Cosa ti serve? C'è pericolo? Che sarebbe lui? Ordini? Allora se io prendo questi e clicco su di lui. No. Sì. Su questo. Sì mio signore. C'è pericolo questo. Andiamo. Va bene. Sì mio signore. Seguite voi da lontano sì. Mi metto in cammino. Certo. Va bene. Sì mio signore. Mi metto in cammino. Sì mio signore. Va bene. Eccolo qua. Cucciolo di drago nero. Eh eh. Sono il tuo cecchino. Ricerca completata. Non c'è bisogno che ti inginocchi. Molto bene. Ok. Il cucciolo era abbastanza semplice. Vediamo. Qui ce ne sono un bel po'. Molto bene. Per l'onore. Molto bene. Certamente. Non la ricordo proprio. Per l'onore. Questa cosa. Per l'onore diventate più storti a ogni generazione. Certamente. Ahia. Mi sa che veramente sono un po' stolto eh. Ah possiamo. Spuro divino. Li portiamo questo cuore ai nani. Ho perso un nano purtroppo. Portiamo il cuore al nano. Che è questo. Si può. Ordini. Ok. Lo possiamo rimpinguare. A posto. Queste. Io le. Migliorerei tutte. Perché non vorrei che mi attacchino. E. Vediamo uno di questi del loro. Sono arrivati qua. Nel frattempo. Ora forgerò nuovamente le vostre armi. Così potrete sferrare colpi incandescenti. Globo di fuoco. Non c'è bisogno che ti inginocchi. Aggiungi cinque danni da fuoco agli attacchi dell'oro. Inoltre esposione danneggia le unità nemiche vicine. Ma si consuma? Cioè se io ci clicco no? Ah no sta così è passivo. Allora te te volevo far riparare un attimo le torri. Tipo questa. Qui si stanno costruendo. Allora missioni. Completata. Completata il maestro d'arme. Quindi dobbiamo solo ammazzare e uccidere il maestro d'arme. Ottimo piano. Ok quindi in questo momento siamo più potenti. Per mio padre il re. Certamente. I nostri uomini sono sotto attacco. Non c'è bisogno. Ricerca completa. Ottimo piano. Dai. Altro lavoro. Tu hai finito? Sì. Riprende l'oro. Ah destramente non posso fare più perché ho finito lo spazio. Giusto? Sono arrivati i nani. Mi servirebbero delle case quindi. Cosa c'è? Di qua. D'accordo. C'è pericolo. C'è pericolo. Certamente. Per l'onore. Per mio padre il re. Ottimo piano. Certamente. Ripassavo un nemico. Sì mio signore. Io combatto per la luce. Forza ragazzi dai. Lui ce la farà da solo? Sai che ho fatto una cacchiata a mandare via quei due. Continuo a costruire. Vabbè dai mica tanto. Tanto con le torri di guardia. Sembra che lui ce la faccia. E questo è il maestro d'arme. Attacchiamolo. Quanti sono? Ok. Quindi è finita pure quest'altra missione. Amico mio è stata un'ottima vittoria. Non so Uther. Gli orchi sacrificavano i cittadini. Credo stessero tentando di evocare dei demoni. Non temere amico mio. Gli orchi si aggrappano a tradizioni morenti. Abbiamo sconfitto i loro demoni molti anni fa. Torniamo a casa. È stata una giornata dura. Yes. Vabbè. Quindi è finita un'altra missione. Sono veramente molto brevi. E vi ringrazio voi ragazzi come sempre dall'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo.